Nel tuo vantaggio. Politica, eterna figlia dell'io, che trasmuti ogni possibilità nel tuo vantaggio. Dimmi, perché crei statisti come Aldo Moro e avvoltoi dalle ali tanto grevi che li uccidono? La passione di Moro era l'Italia, la stessa dell'altro evoluto Enrico Berlinguer. Intorno a loro ruotava un potere disperato che vietava il loro insieme e la decisione tetra del potere ha ucciso Moro e la sua scorta. Commento. La legge spesso priva gli evoluti anzi tempo della vita perché diventano inadatti per la media evoluzione della comunità fisica che non è solo il loro popolo in cui sono incarnati. Grazie. 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 Grazie.